Ciao, scusa se ti disturbo. No, tranquilla, tanto sto stirando. Guarda, le fruste elettriche sono in cucina, però attenta quando passi che ci sono le prese. Ma, lavori sempre così? Sì, lo so, non è molto comodo, però mi devo arrangiare, non ho molte prese elettriche in casa. Ma non è questione di comodità. Non si devono collegare più riduttori o prese multiple in serie, si rischiano cortocircuiti o incendi. E le prese multiple hanno la marcatura CE o EMQ. Non lo so, le ho prese a una bancarella. Impianti non a norma o apparecchi difettosi possono comportare rischi di folgorazione. Occuparsi in modo abituale ed esclusivo dell'abitazione è un lavoro impegnativo. Almeno non corre le rischi per la tua sicurezza. Ti ho già ricordato di rinnovare l'assicurazione inel contro gli infortuni domestici? Sì, sì, già l'ho segnato sul calendario, entro il 31 gennaio. Grazie per le fruste. Ma, sono a norma, vero? Grazie per la visione! Grazie.